Uniformare in tutti i 305 comuni abruzzesi il servizio di scuola bus tutelando i lavoratori e fornendo più qualità e sicurezza agli utenti. Ma in questa direzione l'appalto unico per gli scuola bus il cui accordo è stato sottoscritto dalla CGL. Ma noi vogliamo che ci siano condizioni positive per i lavoratori, condizioni di qualità. Noi avevamo registrato che in molti comuni non si applicava il contratto idoneo per gli autisti di scuola bus e abbiamo notato molte difformità, precariato, addirittura applicazione di contratti privati. Quindi noi chiediamo uno standard di regole che valga per tutti i comuni, rispetto dei contratti collettivi in azione di lavoro e tutela per i lavoratori ma anche qualità del servizio. Noi crediamo che negli autobus, negli scuola bus dove vengono trasportati i nostri ragazzi e i nostri bambini è necessario avere delle condizioni di sicurezza anche dei mezzi che vengono trasforzati, dei mezzi di trasporto e dei ragazzi. Questo per noi è molto importante. La gara unica si fonda sul ricevimento di un accordo che noi abbiamo sottoscritto con Ariacom e quindi da questo punto di vista siamo soddisfatti. I comuni poi possono scegliere sia aderire o meno, ma la cosa importante è che garantiscano le stesse tutele normative ed economiche per i lavoratori e gli stessi standard di sicurezza e di qualità del servizio per i ragazzi che vengono trasportati a scuola. Riscontriamo tuttora che i lavoratori vengono pagati in ritardo, non vengono pagate per le ore che espletano e quindi questo è un problema che si può arginare mettendo sotto osservazione questo settore. Quindi invitiamo tutti i sindaci, gli assessori dei comuni a vigilare maggiormente su questo settore perché è un settore delicatissimo, appunto, ripeto, trasportano il nostro futuro, i nostri ragazzi. Ragneri, alle perplessità sollevate dal Partito Democratico che cosa replicare? Il Partito Democratico pone delle problematiche rispetto ai costi alti, a parità di servizio. Come dire, quei comuni che vedono dei costi elevati, se sono convinti di poter garantire quegli standard, quella qualità, quel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoratori a prezzi inferiori, possono farlo. Però ecco, devono dimostrare che ci sono le tariffe più vantaggiose garantendo gli stessi standard. Lo ripeto, quindi questa non è una polemica con nessuno. Si tratta di dire, finalmente abbiamo degli standard qualitativi per i lavoratori e per i bambini, che si recano a scuola con lo scuolabus, biso tutti i comuni sono tenuti a rispettare quello standard.